Ciao viaggiatori benvenuti in prigione L'Elisa gli fa ridere questa cosa qua No, non siamo impazziti, ci troviamo a Bordeaux del night jet Il treno che ci sta portando dal Milano centrale in Austria Ma perché fa ridere questa cosa qua? No, 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 no Corri, 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 corri Vabbè, discesa al cardiopalma Stavamo per essere lasciati sul treno Quindi non so che fine potevamo fare Guten Morgen Siamo arrivati Ci siamo un attimo ripresi dal viaggio fatto in treno Che da Milano centrale Arrivare qui nel Salisburgese è stato circa 8 ore Poi ragazzi che avventura quando stavamo per perdere il treno E praticamente non fermarci alla fermata dove ci dovevamo fermare Io sono stato l'ultimo a scendere Ho rischiato di continuare chissà per dove Comunque ragazzi si parte Adesso andiamo in quota a 3.000 metri In questo momento ci troviamo nel paesino di Zellamsee Glielo dite voi a Luca che questa verità non gli sta bene E belli, siamo presi in Finlandia Immancabile la tappa a Zellamsee Bell' naturalmente del lago Che la rende veramente un posto troppo troppo carino Oggi non è che si veda tantissimo Immaginate che là dietro ci sono le montagne Non si vede assolutamente niente però È tutto innevato ed è tutto molto pittoresco Dopo la seconda funivia siamo arrivati a 2.400 metri Il tempo è come sempre, ovvero c'è freddissimo Ormai ci manca l'ultimo troncone di fumicolare E poi arriveremo in cima Ok siamo arrivati in cima Prima tappa il cinema si chiama Cinema 3000 E' praticamente una sala a proiezione dove mostrano la storia di questa montagna Ora stiamo decollando sull'Enterprise Destinazione Spazio Profondo In realtà c'è una galleria scavata nella montagna Che è arrivata adesso a Museo E che era un'antica miniera Miniera di cristalli Non so se vi è mai capitato ma quello che c'è qui è un geofono Cioè in pratica questo altoparlante ci permette di sentire i rumori della montagna Perché la montagna è sempre in movimento Quindi dal cuore della montagna i sui rumori E ora usciamo per andare ad ammirare la vista dal punto panoramico Che ci hanno dato ad essere unica Devo ammettere che non ho mai visto un ghiacciaio E neppure adesso che ce l'ho di fronte lo posso vedere Una donna distrutta dalle snizzle Esatto Dopo una giornata passata nel gelo del ghiacciaio A più di 3.000 metri Come si può concludere il pomeriggio? Ovviamente Beh, senza dubbio Spaa Ovviamente non vi mostreremo la spa Però vogliamo condividere con voi un dubbio che abbiamo sempre Quando si va in spa, soprattutto in Austria Ci si mette o non ci si mette il costume? Non, non, non Io direi che con questo bimbrulé inauguriamo ufficialmente la stagione dei mercatini di Natale Non vedevo l'ora I'm walking around, feeling free Thinking about what's happened to me from July Up to now, don't know where, don't know how Lately I've come to read Guten Morgen Buongiorno L'Elisa ha una faccia che sembra una cinese A parte questo qua, volevo annunciare che stamattina ci dedicheremo un'attività della Ciaspolata Sì Bene, ultimi preparativi Ovviamente Lely è sempre l'ultima È l'unica che ha dei problemi tecnici Guardate ma Oggi è giornata no Dovete sapere che il turismo locale ci ha fornito di un kit di sopravvivenza costituito dalla fiaschetta ma non naturalmente fiaschetta vuota e è stata riempita con grappa, la nocciolo adesso testeremo. Bello ci ascolare, è bello anche rifugiarsi dentro di una baita a mangiare come al solito piatti leggeri Worcester, patatine e come dessert, grafene. Siamo in fase a biocco con tutto quello che abbiamo mangiato però c'è un sole che è uno spettacolo siamo scesi giù, là dietro si vede il bellissimo lago ora andiamo a visitare una baita super tradizionale Ragazzi siamo in un posto mega speciale, una baita in cui il proprietario è Fritz, un personaggio enorme con una barbona bianca e ha vinto un sacco di premi in giro per il mondo e per la sua barba, guardate qui Bene abbiamo salutato il nostro amico Fritz e adesso ci dedichiamo ad un po' di relax perché siamo veramente molto molto stressati, dove stiamo andando? Allora se c'è una cosa che adoro è la spa quando andiamo in montagna C'è l'elica è particolarmente esaltata perché alle mie spalle non so se si vede quel gabbiotto là è praticamente il barettino dove ti preparano i cocktail e te li portano direttamente in cina Missione eterna è terminata, siamo molto rilassati siamo tornati in paese a Zelamsé perché c'è da visitare il secondo mercatino della città e soprattutto c'è da andare a cercare dei musicisti che stanno girando per il paese e ci hanno detto che sono molto tipici Buongiorno Buongiorno Cambio di location questa mattina ci troviamo a valle di Grossar e adesso abbiamo una cosa fichissima da fare Ecco cosa andremo a fare, facciamo una bella gita a bordo di una svita tra le altre cavalli in mezzo alle montagne Abbiamo finito la gita a cavallo e adesso siamo al ristorante Luca ha preso una zuppa all'aglio ma soprattutto quello che vi voglio far vedere è guardate qui Ah qui c'è il Krampus, guardate com'è figo Sta facendo un sacco di foto Nel piano inferiore del ristorante che abbiamo mangiato si trova una collezione di maschere dei Krampus Cosa va là è che ovviamente il gestore del ristorante è un creatore di maschere Adesso ve le faccio vedere, sono veramente verificanti Ok ragazzi allora adesso diventerò un Krampus anch'io Ale Intanto non si vede la differenza Ragazzi c'è una cosa troppo carina Alle mie spalle ci sono due aiutanti del Gesù Perché praticamente in Austria non credono a Babbo Natale Ma credono all'angionino Gesù che porta i regali Quindi queste sono le aiutanti A Gesù Bambino A Gesù Bambino Ci sono le aiutanti che scrivono per i bimbi che ancora non sanno scrivere la letterina E poi la mandano a Gesù Bambino Top Ragazzi c'è leggermente freddo Siamo tipo semi ma anche forse più di semi assiderati Adesso è arrivato il momento di andare a cena La nostra ultima cena in Austria Al ristorante dell'albergo Nestler Hall Buongiorno Buongiorno ultimo giorno nel Salisburgese Ragazzi nevica Nevica Noi affronteremo un sentiero a piedi per raggiungere una malga Di cui adesso non mi ricordo il nome ma ve lo scrivo qua sotto in questo momento E molto probabilmente torneremo giù con gli slittini Missione compiuta Siamo arrivati a Abait Abbiamo la faccia un attimo congelata Però adesso andiamo a bere qualcosa di caldo Con una quantità di cibo impressionante Qualche grappetta Adesso ci lanceremo nell'impresa Di scendere a valle Con gli slittini Ed eccoci rientrati alla base Ragazzi come al solito Se vi è piaciuto questo video Ricordatevi di mettere un pollice alto E se ancora non l'avete fatto Di iscrivervi al canale Vi aspettiamo nei commenti Per sapere le vostre esperienze di mercatine di Natale in Austria Oppure se state programmando una cosa del genere Ci vediamo domenica prossima Ciao